Non abbiamo altra scelta se non quella di vincere. Round 1. Inizio conto alla rovescia anello. Quell'anello è lontano, lo so. Attenzione, il campione è stato eliminato. Attenzione, prima di attivare. Mi faccio cavato a scelta. Quittà a scelta. Quittà a scelta. Grazie a tutti Nemico fuori gioco Sto posizionando un portale Portale piazzato Non sei al sicuro lì Sto posizionando un portale Sto posizionando un portale Sto posizionando un portale Trenta secondi Granata termite lanciata Lancio granata termite Minico fuori gioco Devo ricaricare i miei scudi Un minuto alla chiusura Bene, dentro il prossimo anello Capsule assistenza in arrivo Sei un bersaglio facile Un minuto alla chiusura Un minuto al portale Punto alla chiusura Con erite e un minuto all'interno Pericolo, muoviti Pericolo, muoviti Pericolo, muoviti Sei il campione di Apex Pericolo, muoviti